allora in questa lezione andremo a vedere i modelli 3d cosa sono i modelli 3d procreate oltre alla parte di disegno e grafica a diciamo una parte sia di animazione che non andremo a vedere in questo video perché non fa parte del tatuaggio e sia una parte 3d come potete vedere io qui ho i miei modelli 3d tutti messi in una libreria anche questi modelli li trovate sul mio sito su artegraffa.it cosa possiamo fare ad esempio dobbiamo fare un tatuaggio su una gamba questa qui il modello potete ruotarlo ingrandirlo o rimpicciolirlo e con due dita spostarlo queste sono diciamo le gesture che potete fare con le mani se andiamo in livelli potete vedere che io già ho precaricato tutte quante le skin i toni della pelle c'è un livello base che non andrà toccato tutti i livelli della pelle che possiamo andare a inserire con un clic dal più chiaro e più scuro in base alla pelle che al nostro cliente per avere proprio un anteprima se non ne selezioniamo nessuno è bianco possiamo ad esempio prendere questo che mi piace ho qui creato poi altri due livelli che ho chiamato righelli e art su righelli possiamo impostare delle linee guida mi spiego allora in questo modello io vorrei andare anche direttamente a disegnare prendo ad esempio un outline e mi creo il mio tatuaggio una bella faccina sorridente ok io sì ho scritto qui ma se avessi dovuto fare una cosa più complessa dovrei andare qui gira qui gira qui e gira qui e diciamo perderei un po' l'orientamento perché ora sono arrivato al ginocchio ma come ci sono arrivato non lo so se sono andato dritto no? quindi per ovviare a questo problema io consiglio sempre di lavorare in 3d e scusate di lavorare in 2d annulliamo questi disegni andiamo su livello righelli e scegliamo ad esempio un colore un po' vivace un verde e magari un outline shadow diciamo che io voglio sezionare la gamba nella parte del tatuaggio che mi interessa quindi io so che il tatuaggio andrà fatto in questa zona perché è un esterno coscia ok quindi ho delimitato la zona che mi interessa se io vado qui in impostazioni vedete c'è un pulsante 3d posso quindi andare a fare un mostra texture 2d e lui praticamente aprirà la pelle della gamba in modo piano infatti come potete vedere qui c'è la nostra zona e in questa zona su art sul livello art io posso andare a disegnare ad esempio voglio fare una croce dritta magari prendiamo un altro pennello voglio fare una croce perpendicolare faccio la mia retta la tengo diciamo puntata così si addrizza e poi se tengo un dito me la metto a 90 gradi perpendicolare voglio fare questa stessa cosa me la metto a 90 gradi e quindi diciamo io ho creato una croce perfettamente nella posizione che volevo se adesso vado a riattivare il 3d vedete lui la sia posizionata sia scritta e la scritta anche bene cioè non ci so interferenze perché se io vado a fare delle linee vedete come è meno netto anche faccio vedete è come se avesse una bassa risoluzione in questo modo voi avete un disegno in hd oltretutto attivando sempre il 2d possiamo importare immagini perché se lo facciamo da 3d guardate che succede io faccio qui su art impostazioni aggiungi una foto prendiamo la rosa vedete com'è posizionata male com'è marcata male guardate è difficile da posizionare poi si perdono i dettagli ok se invece noi andiamo a attivare il livello 2d e adesso importare la foto lavoriamo in piano quindi sarà molto più facile posizionarla calcolate che adesso c'è tutto lo sfondo che andrebbe tolto però quando ritorniamo in 3d ecco qui che lui la posizionata perfettamente vedete non ha perso nessun dettaglio anche nel contorno e questa diciamo è un'anteprima che potete mandare al cliente per vedere come sarà il suo tatuaggio magari con una foto migliore perché questo modo non è proprio l'ideale andate poi un po' a scontornare io ora in modo veloce molto veloce e attiviamo il 3d ecco qua questa è l'anteprima del vostro tatuaggio inoltre possiamo condividerla possiamo scattare un'istantanea come se fosse una vera e propria foto tramite condividi su esportazione png o jpeg e inoltre possiamo fare proviamo per accedere il png con l'esportazione facciamo salva immagine quindi se andiamo adesso sulla nostra libreria avremo la foto del tatuaggio con la gamba ok e inoltre possiamo fare un video animato su questo primo menu possiamo impostare la risoluzione quindi 720 1080 4k o quadrato vi consiglio di utilizzare risoluzioni un po' alte in base poi anche al formato come lo manderete perché se lo mandate via mail inutile fanno 4k però questo decidete voi c'è la rotazione animata o l'oscillazione con rotazione e ruota 360 così diciamo così io in genere metto la rotazione che è più d'effetto c'è la durata dell'animazione in quanto tempo quindi andrà a fare un giro completo c'è la distanza che possiamo anche azzerare per non avere questo effetto avanti dietro e c'è l'andamento che è diciamo ruota poi si ferma poi ruota poi si ferma possiamo anche disabilitare l'ambiente in questo modo per non avere lo sfondo una volta fatto esporta lui lo salverà e potrebbe mandarlo al cliente andiamo a cancellare una cosa che vi consiglio magari di creare come ho fatto io una doppia libreria una volta scaricate tutto il pacchetto create un clone di questa libreria sempre da seleziona selezionate e fate duplica in modo da avere un pacchetto diciamo pulito e un pacchetto dove andate un po' a sporcare i disegni vostri e questi ragazzi li trovate tutti su artegraffa.it dopo un po' di promozione macchinette amazon e youtube vedete avete i modelli 3d e i pennelli se entrate sui modelli 3d avete sia i modelli singoli sia i bundle dell'uomo dell'uomo e della donna a prezzi scontati naturalmente e quindi potete così dare un'anteprima d'effetto al vostro cliente se ancora non l'hai fatto mi raccomando iscriviti al canale noi vi vediamo al prossimo video bella